Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. L'anticiclone sarà il padrone del nostro territorio ancora per diversi giorni. Vedete proprio dalla grafica come un anticiclone, proprio direttamente dalla Spagna e addirittura dal Nord Africa, si espanderà proprio in direzione del Mediterraneo centro-occidentale, interessando anche il settore alpino e prealpino dell'Italia. Pertanto le perturbazioni sono costrette da una parte ad andare verso la Grecia e dall'altra a limitarsi a interessare solo le isole britanniche. Per cui questo rafforzamento dell'anticiclone garantirà bel tempo per diversi giorni, con temperature miti per il periodo e appunto assenza di precipitazioni. Se andiamo appunto alle linee di tendenza, anche per il 25-30 di settembre, vedremo più stabile e caldo su gran parte del nostro territorio. Avremo temperature sopra la media anche di 3-4 gradi, specie nei valori massimi. Le temperature minime si manterranno invece un pochino basse, intorno agli 11-12 gradi. Quando quest'anticiclone si allontanerà dal nostro territorio e arriveranno le prime precipitazioni nelle perturbazioni atlantiche. Ecco, i nostri modelli matematici vedono un cambiamento del tempo a partire da venerdì sabato prossimo, quando una perturbazione atlantica direttamente dall'Irlanda e isole britanniche riuscirà a scalfire questa cupola anticiclonica entrando proprio dal Golfo Ligure e portando a un peggioramento del tempo che potrebbe concretizzarsi nella giornata di sabato con delle piogge che potrebbero arrivare sul nostro territorio. Ma andiamo con ordine e andiamo all'evoluzione del tempo per domani. Nulla di particolare, sarà una giornata con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su gran parte del nostro territorio. Qualche locale a nuvolamento, non lo escludo, nella zona più montuosa del nostro territorio. Temperature, abbiamo detto, nella norma o qualche grado sopra. Zero termico, intorno ai 3.200 metri nell'errore centrale a giornata. Massimi a clusone, intorno ai 20-21 gradi, minime 11-12 gradi. Ventilazione quasi assente, un pochino di vento più sostenuto, sono nella zona del lago di Seo. Evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Nulla di significativo, nulla di particolarmente rilevante sul nostro territorio. Al più qualche nuvola, abbiamo indicato nella giornata di lunedì, una certa variabilità potrebbe insistere sul nostro territorio, ma non prevediamo alcuna precipitazione. Temperature comprese a clusone fra 11-21 gradi, pensate a Bergamo, punte di 23-24 gradi. Martedì, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Diciamo che rispetto alla giornata di lunedì farà un pochino più fresco, con massime che saranno intorno ai 19-20 gradi, zero termico a 3.500 metri altitudine. mercoledì e giovedì non cambia nulla, perché è proprio l'anticiclone a garantire stabilità atmosferica, un clima mite per il periodo. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, sia nella giornata di mercoledì che nella giornata di giovedì. Farà anche, tra virgolette, caldo. È chiaro che siamo a fine settembre, però avremo temperature decisamente sopra la media, con 22-23 gradi a clusone e, pensate, anche 25-26 gradi a Bergamo. Quindi quasi un clima tardo-estivo, più che autunnale. Prime avvisaglie di cambiamento nella giornata di venerdì, quando saranno le nuvole via via ad aumentare sul nostro territorio. Potrebbero essere appunto le avvisaglie di un peggioramento, che deve essere però ancora vagliato dai nostri modelli matematici, che potrebbe appunto verificarsi nella giornata di sabato, quando potrebbero arrivare delle precipitazioni, anche abbastanza insistenti sul nostro territorio, avvisaglie appunto di un cambiamento significativo del tempo. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.